E' già operativa all'Ascari, la nuova rete pubblica di telecomunicazione a banda ultralarga Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell'infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del comune in provincia di Palermo di accedere ad internet con prestazioni efficaci all'avanguardia. L'intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce. La rete, oggi disponibile all'Ascari, raggiunge 2597 unità immobiliari attraverso la tecnologia Fiber to the Home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici, unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione ad 1 GB al secondo e anche oltre. Tra gli edifici coperti ci sono la scuola elementare, Madre Teresa di Calcutta, la scuola media Falcone Borsellino, i locali della guardia medica, la sede dell'istituzione pubblica, spazi socio-culturali ospedaletto, gli uffici della condotta agraria e ancora la caserma dei carabinieri, della pulizia municipale e del distaccamento forestale, il municipio, la biblioteca comunale, l'ufficio tecnico, i locali culturali dell'ex macello e il centro per anziani di via Roma. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del comune. L'infrastruttura tecnologica infatti è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del piano banda ultralarga gestito da Infratelli Italia, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della regione siciliana. Molto ridotto l'impatto per la posella fibra grazie a tecniche di scavo innovativa e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti.